La squadra bianco-rossa con tutti i suoi tifosi, tutti i brava gente sono molto numerosi e seguono in trasferta ovunque l'essa va perché sono sicuri che sempre vincerà. I bianco-rossi sono dei gran giocatori, vincano in casa, vincano fuori. E a tutti quanti noi tenderemo la mano e anche quest'anno resteremo in serie A. Siamo bianco-rossi tifosi del Vicenza, amiamo la nostra squadra, vicina la speranza. Se anche qualche volta fortuna non avrà, sempre nel nostro cuore la squadra rimarrà. A. 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 Il bianco rocci sono dei grandi giocatori In cano in casa, in cano fuori E a tutti quanti, noi tendremo la mano E anche quest'anno, resteremo in serie A